buongiorno ragazzi benvenuti ad un altro video molto breve su un vino molto particolare siamo di nuovo in Valtellina vi porto di nuovo lì voi sapete la mia passione la mia grande passione per la Valtellina questa volta andiamo da un produttore molto molto particolare proprio all'estremo diciamo est della Valtellina quasi vicino a Tirano oltre la zona della Vagella questo produttore è Marcel Zanolari ed è un produttore prima di tutto con un'idea di viticoltura molto unica è un produttore in Valtellina biodinamico anzi ha due certificazioni biodinamiche tra cui quella di Vumeter biologico completamente naturale e utilizza anche vitigni pia